Aiuto raga, aiuto, 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 se ne sta andando, aiuto, aiuto, ci stiamo cacando sotto, vuole andare via, vuole andare via raga, sto impazzendo, non ci sto più dentro, popolo rosso nero, amici di youtube, benvenuti alla casa del benzinero Allora iscrizione ovviamente, campanellina, pollice in su per i benzinieri, ok? I calciatori a usare i social siano un po' pirla, io l'ho sempre sostenuto Però ragazzi bisogna anche tenere in considerazione che stiamo parlando di ragazzi giovani che come tutti noi fanno le foto dove vanno, quando sono a riposo le postano su instagram Però loro sono persone importanti, quindi subito, BEM! Parte il caso Leao, Leao manda un chiaro messaggio Leao mette le fotografie dove è stato, è stato a Parigi, ha messo l'attore di pelo, un po' di spese, sai, tutte quelle cose lì e scrive Leao le scrive, Leao e le scrive, Parigi è sempre un'ottima scelta Si monta un caso della Madonna, mettono subito i primi titoloni, Leao manda un segnale al Paris Saint Germain, Leao spaventa i tifosi del Milan Cazzo, ma se io metto su instagram vedere cicciolina all'isola dei famosi è sempre una bella cosa Non vuol dire che io mi voglio chiamare cicciolina Ho scritto un bel messaggio, basta, tutto qui Stessa cosa è Leao, non si può pensare magari che Leao abbia scritto Pensare i due giorni di riposo a Parigi è sempre un'ottima scelta O non so, andare a figa a Parigi è sempre un'ottima scelta No, subito sono sparate 75 milioni offerti da Paris Saint Germain per Leao Leao pensa di andare a Parigi, Leao vuole andare a Parigi Tutto questo perché fa notizia, scrivere queste cose qua Vende, fa fare clic, la gente ci guarda A me sinceramente non frega un cazzo di queste cose qua Io sono connesso, io ho il cervello connesso alle ultime tre partite di campionato per vincere lo scudetto A me dopo, se i giocatori vogliono restare, se ne vogliono andare Vogliono l'aumento di contratto Perché può essere anche questo Se il Milan non mi dà il grano che voglio Parigi sarà sempre un'ottima scelta Chiamalo scemo, ti danno 14-15 milioni se vai in quelle squadre lì Però dico, se volete restare, sono contento Se volete andare, oggi a me, non frega un cazzo Io voglio lo scudetto perché domenica i ragazzi della Curva sono giù in 16 mila a Verona Per sostenere la squadra e sono sicuro che come me All'oro del mercato non fotte un cazzo finché non finisce il campionato Ditemi la vostra o andiamo a nasconderci sotto i letti Ha mandato un chiaro messaggio a Paris Saint Germain Leao Cacchiamoci sotto, sempre Forza Milan Cacchiamoci sotto, sempre Forza Milan